In questa piazza si consuma l'ultimo atto di una dittatura e come sempre nella storia si consuma nel sangue. Fu un epilogo inevitabile di una guerra fratricita e terribile. Solo tra il settembre 1944 e l'aprile 1945, negli ultimi 8 mesi di guerra civile, furono 20 i rastrellamenti nazifascisti su questa sponda del lago. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.